Ehi, che fai, devi vendere casa Qui c'è Rexer che ti sta aspettando Che servizio davvero speciale Che bellezza questo immobiliare Grande Rexer può far bacco Vendi casa che sollozzo Se vuoi vendere casa vai su Rexer.it e richiedi una valutazione gratuita Rexer, vendiamo casa tua a chi la sogna Non c'è nulla di meglio di un po' di tenerezza Milka Cookie, fatti con il tenero cioccolato Milka 100% latte alpino Scusa Alex, che wifi hai? Me l'ha consigliato di vicino, SkyWiFi Passa anche tu a SkyWiFi e non ci pensi più A soli 25,90 euro al mese per 12 mesi Chiamaci all'141, vieni su sky.it o nei negozi Sky Va per croccante Ricoperto da cioccolato al latte Scegli il tuo break Have a break, have a KitKat Prova le KitKat Ball Croccanti con cioccolato al latte, tutte da condividere Hai esaminato nel dettaglio ogni singola prova Hai risolto anche l'ultimo enigma E nel frattempo Eri a mollo nella vasca da bagno Audible Più ascolti, più immagini I nuovi Tuck Bay Crawls sono così buoni Da dover chiedere scusa perché ti hanno distratto Dalla chiamata del capo Dal tuo lavoro Scusali per tutto Ma non per la croccantezza e i gusti esplosivi Nuovi Tuck Bay Crawls Provali tutti I mal di testa non sono tutti uguali Quando ti opprime puoi provare Moment 200 Quando è forte Moment Act Analgesico Se hai mal di testa da cervicale, Moment Hold Per il mal di testa da congestione nasale, Moment Xin E per il mal di testa e dolori da ciclo, Moment nella confezione rosa Moment, spegne i mal di testa Da Angelini Pharma Il giusto è liberato dall'angoscia A lui subentra il malvaggio Voi potete aiutarmi Siamo qui per questo, Paul Il modus operandi dell'assassino è troppo sofisticato Crede ci sarà un altro omicidio? I demoni, il male, il diavolo sono realtà Dinebriatemi con la vostra essenza Io mi consacro a voi A terra Fermate! Mani dietro la schiena I fiumi di porpora La serie La terza stagione Ogni mercoledì alle 21.20 Rai 4 Le mie mani sono sporche di sangue Per quanto io mi sforzi Non posso cancellare il passato Ehi! Sembri un tipo molto solitario Non ti piacerebbe avere una ragazza? Abbiamo del lavoro Non ha bisogno di te Siamo chiusi Li troveremo Uccidi prima la vecchia e la ragazza E le turbino Lo chiamano il mietitore Non abbiamo bisogno di essere salvate Sono io che provo a salvare me stesso In prima visione Clean Venerdì alle 21.20 Rai 4 Vi ricordiamo che per gli argomenti trattati La visione del programma che andrà in onda È destinata al solo pubblico adulto Fotovoltaico tutto incluso? È possibile con IREN Il tuo nuovo impianto fotovoltaico tutto incluso A partire da 4.690 euro Se avere tutto non ti sembra possibile È perché ancora non hai scelto IREN Scopri tutte le offerte su irenlucegas.it O chiamalo 896 96 96 Il calcare si accumula su ogni superficie del mio bagno Ma Via Cal con formula per tutto il bagno Lo dissolve fino al 100% Lasciando solo brillantezza e un delizioso profumo Sulla porta della doccia Sulle piastrelle E i sanitari Via Cal Il numero 1 contro il calcare Per tutto il bagno Raccomandato da Ideal Standard Prendersi cura della miopia È importante fin da giovani Puoi provare le lenti da vista Maio Smart di OIA Grazie alla tecnologia DIMS Correggono la miopia E possono rallentarne la progressione Indicate per ragazzi tra i 6 e i 18 anni Sono adatte a uno stile di vita dinamico Così loro possono spingersi sempre più avanti E guardare al futuro Chiedi informazioni su Maio Smart al medico oculista E provale nei centri ottici Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio Con Ziquil Natura Gommosa la melatonina Dormi bene E diventi un campione ogni giorno E ora Ziquil Natura È disponibile anche in formato spray senza zucchero Prova il nuovo spray Bella è bella Però chissà quanto mi costa di assicurazione Compara le migliori assicurazioni online E risparmia sulla polizza auto e moto Segujo.it Il comparatore senza confronti Molti dentifrici smettono di proteggerti dai batteri Appena hai finito di lavarti i denti Ma Oralby continua a farlo Con la sua tecnologia esclusiva crea uno scudo attivo Per una protezione 100% più efficace Anche dopo aver lavato i denti Per un'azione che continua E continua tutto il giorno Dentifricio Oralby Scegli la protezione che continua Con Mediolanum Hai il 5% anno sulle somme vincolate a 6 mesi E le svincoli quando vuoi Senza perdere gli interessi maturati Facile Apri il conto e accredita lo stipendio Questa è Mediolanum Banca Mediolanum Costruiti intorno a te Che dove sia questa l'escape room? E fammi capire Quindi stiamo iniziando Sì Obiettivo Evadere Che cosa dobbiamo cercare? Qualsiasi cosa somiglia a un enigma O a un codice Può essere dappertutto Regola del gioco Sopravvivere Chi sarà il fortunato tra i fortunati? Tempo stringe Non abbiamo scelta Io esco, ok? Fatemi uscire subito Escape Room Lunedì alle 21.20 Ed Escape Room 2 Gioco Mortale Lunedì prossimo Alle 21.20 Rai 4 Vi ricordiamo che Per gli argomenti trattati La visione del programma Che andrà in onda È destinata al solo pubblico adulto Non lo... Vabbè, sai quanto sono innamorato della musica, no? Ho scritto una canzone e non me l'hai fatta sentire Sono il tuo compagno di banco Forse dobbiamo suonare insieme Certo che dobbiamo suonare insieme Questa è la nostra estate Estate 1992 Estate degli 8-8-3 Mauro, ho avuto un'idea geniale Hanno ucciso l'uomo ragno Non si sa neanche perché Hanno ucciso l'uomo ragno La leggendaria storia degli 8-8-3 Nuova serie Dall'11 ottobre in esclusiva su Sky Guardala con il nuovo Sky Stream Prova Felix Soup Un delizioso mix di bocconcini In un brodo saporito Purina È il momento perfetto Per imparare in modo innovativo e sostenibile È il momento di scegliere Pegaso L'università digitale più scelta in Italia Iscriviti o trasferisciti in Pegaso Se hai meno di 22 anni Pagli la metà e riconosciamo i tuoi CFU Ehi che fai Devi vendere casa Qui c'è Rexer che ti sta aspettando Che servizio davvero speciale Che bellezza questo immobiliare Grande Rexer può far bacco Vendi casa che sollozzo Se vuoi vendere casa vai su Rexer.it E richiedi una valutazione gratuita Rexer Vendiamo casa tua a chi la sogna Scusa Alex Che wifi hai? Me l'ha consigliato il vicino Sky wifi Passa anche tu a Sky wifi E non ci pensi più A soli 25,90 euro al mese per 12 mesi Chiamaci all'141 Vieni su sky.it O nei negozi Sky Capsule a base di carta Completamente compostabili Ah sì? Oh no! Ai miei cavi! Ehi, fermi! Grazie mille Caffè What else? Sono compostabili E sempre con quel gusto indimenticabile What else? Buttale nell'organico Nespresso What else? Ma sei già Natale Cosa portate in dono? Un finanziamento in 24 mesi Su tutta la collezione Prima rata nel 2025 Vigiolo a 1,30 euro al giorno Pennola a 1,49 euro al giorno Termina domani Il giusto è liberato dall'angoscia A lui subentra il malvaggio Voi potete aiutarvi Siamo qui per questo Paul Il modus operandi dell'assassino è troppo sofisticato Crede ci sarà un altro omicidio? I demoni Il male Il diatomo Sono realtà Dinebriatemi con la vostra essenza Io mi consacro a voi A terra! Fermati! Mani dietro la schiena I fiumi di porpora La serie La terza stagione Ogni mercoledì alle 21 e 20 Rai 4 Le mie mani sono sporche di sangue Per quanto io mi sforzi Non posso cancellare il passato Ehi Sembri un tipo molto solitario Non ti piacerebbe avere una ragazza? Abbiamo del lavoro Non ha bisogno di te Siamo chiusi Li troveremo Uccidi prima la vecchia e la ragazza E il liturbino Lo chiamano il mietitore Non abbiamo bisogno di essere salvate Sono io che provo a salvere me stesso In prima visione Clean Venerdì alle 21 e 20 Rai 4 Vi ricordiamo che per gli argomenti trattati La visione del programma che andrà in onda È destinata al solo pubblico adulto Vi ricordiamo che per gli argomenti trattati La visione del programma che andrà in onda È destinata al solo pubblico adulto Capsule a base di carta Completamente compostabili Ah sì? Oh no! I miei cavi! Ehi! Fermi! Grazie mille Caffè? What else? Sono compostabili E sempre con quel gusto indimenticabile What else? Butta l'è nell'organico Nespresso What else? Il leggendario Capitan Findus Seleziona il miglior merruzzo Per i suoi bastoncini Extra croccanti Da sempre L'inizio di un'avventura Da gustare insieme Bastoncini di Capitan Findus Una leggenda inimitabile E da oggi I bastoncini di Capitan Findus Sono più convenienti Corri a prenderli Vabbè, sai quanto sono innamorato della musica, no? Ho scritto una canzone Non me l'hai fatta sentire Sono il tuo compenno di banco Forse dobbiamo suonare insieme Certo che dobbiamo suonare insieme Questa è la nostra estate Estate 1992 Estate degli 8 8-3 Mauro Ho avuto un'idea geniale Hanno ucciso l'uomo ragno Non si sa neanche perché Hanno ucciso l'uomo ragno La leggendaria storia degli 8-8-3 Nuova serie Dall'11 ottobre in esclusiva su Sky Guardala con il nuovo Sky Stream Lo chiamano lo strangolatore di Seattle Quattro vittime in quattro mesi E un'altra ragazza è scomparsa Non le tiene mai in vita più di sette giorni Perciò abbiamo meno di 36 ore Sono la squadra di profiler più famosa della TV La persona che cerchiamo è ancora a caccia Avevano una cosa in comune L'SI li voleva tutti morti Fermo Per fermare un serial killer Devono entrare nella sua mente Non è la consegna di un riscatto È un altro rapimento L'SBI Mani in alto, svetto Che cosa lo fa scattare? O chi? Criminal Minds Tutte le 15 stagioni Dal lunedì al venerdì Alle 20.35 Rai 4 La guardi La vivi Buona fortuna Cinema, televisione, fumetto, videogame, editoria La magia dell'animazione L'attualità e la storia dell'immaginario crime e fantastico Vedevano queste cose ed erano tutti allibiti, no? In una nuova stagione del magazine settimanale di Rai 4 C'è questa irruzione del fantastico sempre Wonderland Ogni martedì in seconda serata Rai 4 La guardi La vivi Vi ricordiamo che per gli argomenti trattati La visione del programma che andrà in onda È destinata al solo pubblico adulto Internet Wi-Fi a partire da 18,99 euro al mese È possibile con IREN Internet Wi-Fi senza limiti di traffico Zero costi iniziali di attivazione Se avere tutto non ti sembra possibile È perché ancora non hai scelto IREN Scopri tutte le offerte su IRENLUCEGAS.IT È possibile È possibile Ehi che fai devi vendere casa Qui c'è Rexer che ti sta aspettando Che servizio davvero speciale Che bellezza questo immobiliare Grande Rexer può far bacco Vendi casa che è solozzo Se vuoi vendere casa vai su Rexer.it e richiedi una valutazione gratuita Rexer, vendiamo casa tua a chi la sogna Cosa mi metto per il primo appuntamento? Ah, ecco, ho trovato Salato Let's go! Da MediaWorld c'è il sottocosto Le migliori offerte sul top della tecnologia Fino al 13 ottobre Samsung Galaxy S24 Ultra Con un tera di memoria Tuo a 1199 euro MediaWorld I got you To wear my ring And if I get scared You're always around Then put your little hand in mine There ain't no hill A mountain you can climb Then I got you, babe I got you, babe Mediamente pulito Dovresti lavarlo appena si sporca Ma non sempre puoi E giorno dopo giorno Le macchie si seccano E diventano più difficili da rimuovere Relax Poi lava dash Con la sua formula extra smacchiante Elimina le macchie ostinate Anche quelle secche da 7 giorni Relax Poi lava dash Tenere fuori dalla portata dei bambini Per te che non ti fai fermare da niente Dopo i 50 anni c'è Iovis Rigenera Una formulazione specifica con miliardi di probiotici e prebiotici Che nutrono e riequilibrano la flora intestinale Iovis Una forza unica Come te La televisione digitale continua la sua evoluzione Per vedere tutti i canali Rai Serve un televisore compatibile con il nuovo standard DVB-T2 Non è necessario intervenire sull'antenna ricevente Ma bisogna risintonizzare la TV o il decoder Accedendo attraverso il telecomando alla funzione dedicata Maggiori informazioni su rai.it slash tv digitale Ciao, sono Sofia Pasotto e ho 24 anni Faccio il problema Nella mia testa c'è un mondo intero Quello che vorrei, quello che sogno e quello che cerco di realizzare È la svolta Io lo chiamo Pianeta Sofia Questa città è veramente sostenibile? Un diario di viaggio Alla scoperta della generazione green Pianeta Sofia Diario di una ragazza insostenibile Tutti gli episodi in esclusiva su RaiPlay Molto più di quanto immagini Vi ricordiamo che per gli argomenti trattati La visione del programma che andrà in onda È destinata al solo pubblico adulto Sì, della regione che oggetà può telfisare